Il sindaco Roberto Bonaccorsi ha proclamato oggi a Giarre lutto cittadino a seguito dei gravi atti terroristici avvenuti lo scorso 13 novembre a Parigi. Oggi al municipio l'esposizione della banniera francese e alle ore 12 un minuto di silenzio, osservato il ricordo delle vittime nelle scuole e negli uffici del territorio comunale.